Abete, legnami e infissi, il massimo per qualità e convenienza, presenta gli highlights del campionato d'elite ASME. L'atletico Aurelio per la vetta della classifica, infatti quest'oggi i padroni di casa conquisterebbero il primo posto in solitaria. La Roma Soccer Club per i primi punti in classifica, ben trovati dall'Aurelio FA per la quinta giornata del campionato d'elite. Si allontana Riscaldati che va al centro dell'area di rigore, Trinchi sul punto di battuta, prende la rincorsa, arriva il fischio del direttore di gara, Trinchi direttamente in porta sopra la traversa. Nulla di fatto qui, buona l'esecuzione, di poco alta, Trinchi rientra sul piede preferito, la mette al centro, controlla però qui perde al tempo stesso il pallone in area di rigore, ancora pericolosa l'atletico Aurelio, il pallonetto, 1-0, si portano in vantaggio i padroni di casa, Calavita disegna una traiettoria impossibile da intercettare e firma il gol del vantaggio. Tutti a saltare all'interno dell'area di rigore, alza il pallone, alza il colpo di testa, il palo, la palla rimane lì ancora in attacco alla Roma Soccer Club, lo scarico fuori, il Saui ribattuto il suo tiro. Per l'autore del gol del vantaggio Calavita, si apre ora sulla fascia, arriva il cross, colpo di testa di Falciano, di poco a lato, non trova lo specchio della porta qui, il numero 6, si rimane sull'1-0. Falciano spazza con il mancino male perché è in agguato l'attaccante della Roma Soccer Club, che di prima intenzione la mette alle spalle di Fortunati, non può nulla qui il numero 1 dell'atletico Aurelio, ristabilita la parità, 1-1. Dublice fischio della direttore di gara, primo tempo che si conclude sul risultato di 1-1. Sodomigliori, tensione in avanti tra due avversari, Sodomigliori il colpo di testa, il retropassaggio e Sodomigliori approfitta dell'errore di Dedilectis. Va a esultare perché fa il gol del sorpasso, 2-1 si riporta in vantaggio l'atletico Aurelio. Salgono tutte le torri, Re Chiosè dalla bandierina con il destro, parte ora, traiettoria di uscire, molto alta, arriva. Ora il colpo di testa, testa e salva tutto sulla linea. Re Chiosè salta un avversario, prova a prendersi il fondo, il traversone che diventa pericoloso. Sfiora un gol incredibile, la palla però non entra, dunque rimessa dal fondo. Cavaniglia dalla bandierina, rimangono in attacco tutti i calciatori. Eccolo il cross di Cavaniglia, la palla sfila! Si perde di poco sul fondo, manca il gol del pareggio alla Roma Soccer Club. Rimane dietro solamente Dedilectis, Cupido va in avanti, però è troppo lungo, si perde sul fondo. Triplice fischio, l'atletico Aurelio supera 2-1 alla Roma Soccer Club e si prende la vetta della classifica.